In Calabria esiste un'associazione di mobilità elettrica, la Calmoving, fondata da Luciano Luciani, Gaetano Zuppo, Michele Arnoni e Natale Vinto, con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile attraverso la diffusione della conoscenza e l'utilizzo di veicoli ad impatto zero come alternativa a quelli convenzionali. In questa ottica ha organizzato nella Sala Coni di Cosenza un simposio sul tema Idee e progetti per la mobilità elettrica in Calabria, al quale sono intervenuti tra gli altri la neoeletta deputata Anna Laura Ovico, in qualità di co-founder Talent Garden Cosenza, l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno e il presidente della Camera di Commercio Klaus Algevi. Le conclusioni sono state tratte dal consigliere regionale orlandino greco, promotore e firmatario della proposta di legge sulla mobilità elettrica in Calabria. L'evento è stato l'occasione per offrire un quadro delle forme di mobilità attualmente più sostenibili, economiche e facili da sviluppare, in grado di favorire politiche best practice per il miglioramento delle condizioni di vivibilità e della qualità dei trasporti. L'associazione favorirà occasioni di confronto e sinergie tra enti pubblici e privati, imprese, per la diffusione e la conoscenza della propulsione elettrica e sostenibile, allo scopo di ridurre il gap che ad oggi divide la Calabria dal resto d'Italia ed Europa. Da Cosenza per la Cinews24